Un rinnovamento. Lei era giornalista, era direttore del Popolo quando fu eletto Giovanni XXIII. Come giornalista vi aspettavate un Papa così? Direi in una stretta minoranza, ma sono le minoranze quelle che fanno la storia. La Pira mi aveva detto che bisogna puntare su Roncalli. Quindi una minoranza aspettava Giovanni. Una minoranza aspettava un'inversione di tendenza, diciamolo pure. Un rinnovamento. Tanto noi...